Il nuovo capitolo della vita calcistica di Massimo Rastelli comincerà questo pomeriggio alle 17.30. Virtus Franca Villavellino sarà l'anno zero di un'esperienza che metterà il tecnico davanti ad un nuovo bivio per la sua carriera che conciderà sostanzialmente con quello della squadra. Il momento è difficile, è evidente e il mister è chiamato a risollevare le sorti di una compagine smarrita e in cerca di autore. L'autore da ieri è proprio lui. Lui che conosce la piazza sa come gestire gli umori, le critiche, ma anche i complimenti perché anche quelli spesso sono un boomerang. Le lodi che sono arrivate all'annuncio del suo nome possono rivelarsi deleterie se le cose non dovessero andare nel verso giusto. Bisogna analizzare il momento però con grande senso di realtà e la realtà ha detto senza mezzi termini che questa squadra al momento non è all'altezza delle altre. Vedremo quanto conterà l'aspetto emotivo in questa valutazione. Qualche scelta di carattere Rastelli l'ha già fatta e magari ne farà anche alte, forte e tra i convocati forse tornerà anche al suo posto e se non ci tornerà la sua presenza dovrà essere da stimolo per Marcone che nelle ultime uscite non è stato esaltante. A Francavilla arriveranno poco meno di 200 tifosi ilpini per guardare da vicino come si affronterà questo ennesimo bivio. Quel che conta è il carattere, che la salita sia ripida lo sappiamo. Ora però quel che c'è da capire è che servono testa e cuore per provare ad invertire la rotta ed imboccare la strada della salvezza.